secondo me saremo tutti. Giovanna ha curato la mostra, cosa vuol dire curare la mostra? Siamo andati a casa, abbiamo scelto i quadri, abbiamo capito più o meno quello che lui voleva trasmettere, abbiamo cercato di capire com'era più facile collegarci attraverso i quadri all'artista perché questa manifestazione di oggi sembrerebbe una manifestazione pittorica e invece è la presentazione dell'artista Roberto Vincenzo Gatto che sono cose completamente diverse rispetto alla mostra dei quadri, i quadri sono un mezzo per arrivare all'artista e alla sua indole, la domanda che tutti ci poniamo è perché questo anziché guardarsi telefilm in televisione perde il suo tempo a fare queste cose perché proprio la sua indole come uomo, come persona è tale che facendo queste cose crea una sorta di non isola, crea una sorta di spazio che è riservato solo a se stesso e non lo comunica a nessuno, neanche ai figli e alla moglie, gli comunica solo quando pensa di aver finito, il quadro diventa quadro e lo dà in pasto agli altri per farlo leggere e per farsi leggere attraverso il quadro Giovanni abbiamo detto ha sintetizzato tra i lavori, ha fatto un elenco insieme con lui e non voglio dirlo perché non posso dirlo perché mi è stato vietato con la moglie che non vuole essere nominato, quindi non ha mai partecipato e ha fatto questa cosa così, ha preparato la brochure, ha preparato un testo che adesso vuole leggervi. Lavori di Roberto Vincenzo Gatto, personale omaggio al fare con il cuore. San Francesco d'Assisi diceva che chi lavora con le mani è un operaio, chi ad opera mani in testa è un artigiano mentre chi insieme a questi elementi mette pure il cuore è un artista. Gatto si definisce un'autodidatta in pittura ma a dire il vero ha studiato come i grandi maestri nella storia dell'arte. Nell'azione del riprodurre le opere di Vermeer, di Raffaello, di Chardin, Roberto studia e assimila proprio come un allievo che ha desiderio di conoscenza e interroga i grandi. I lavori e gli studi sulle nature morte, sui ritratti, sulla pittura di genere con interni e lo studio sulla luce, tutto questo costituirà il punto di partenza per cimentarsi con il realismo fotografico, non dimenticando mai che lui, il pittore, non è uno strumento fotografico inanimato e che il mondo che la macchina fotografica cattura restituisce, è pregno di elementi immateriali, bagaglio emotivo che lo strumento meccanico non può sempre percepire, mentre la pittura ci riesce. Nel selezionare i soggetti delle sue composizioni pittoriche, sceglie con il cuore, interpretando le sue grandi passioni, la musica, il canto, la lirica, la famiglia, la religione, la fede. E ciò che inizialmente avevamo definito un esercizio di bottega, l'interno di Vermeer, somiglia al barbiere di Ballarò nella composizione, perché il lavoro di gatto non è stato copiare, ma capire, fare proprio un modo di raccontare l'intimità di un interno dove si svolge una storia umana. Il titolo lavori racchiude un duplice senso, lavori come dipinti che abbracciano una ricerca temporale non ancora esaurita, come racconta l'opera lavori in corso in cui l'autoritratto diventa quasi un trattato di filosofia, mi riferisco all'opera che avete visto entrando all'inizio. La percezione del sé, che è sempre in evoluzione perché viva, non può operare una soluzione di continuità, cioè non è fatta per fissarsi e concludersi. Lavori anche il filo conduttore che lega ognuno dei venti dipinti esposti, perché tutti, compreso l'incompiuto, sono il ritratto dell'umanità che lavora, che si realizza attraverso il fare, attraverso le arti, la musica, la lirica, la recitazione, attraverso le tradizioni culturali, gli operatori dello street food paverbitano, attraverso la fede del proprio credo, attraverso la passione per il proprio lavoro qualunque esso sia. E la nonnina nel ricordo dell'autore che coinvolgendolo da bambino nei piccoli lavori di casa, dà le prime importanti lezioni di vita. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Alessandra di Siciliano, dell'Associazione Culturale Siciliano. Intanto ringrazio Roberto di averci voluto qui come gruppo. Che dire, io Roberto lo conosco da poco, ma quel poco è bastato per conoscere una persona meravigliosa, una persona molto sensibile, una persona dai suoi quadri, da quello che vedo dai suoi quadri, esprime... io vedo il tuo carattere dai tuoi quadri, la perfezione, la purezza nei tuoi tratti e quindi complimenti veramente per questo, per questa bellissima personale. E poi un'altra cosa che volevo chiederti è che tutti che sono entrati in questo posto ieri, la prima cosa che mi ha colpito sono stati tutti quei ritratti che tu hai portato qui, di uomini illustri, famosi. Ma perché? Da dove nasce questa idea di... Allora, innanzitutto grazie per essere intervenuti così numerosi, cioè non me l'aspettavo, però è una sensazione bellissima. Niente, io come diceva Giovanna, identifico l'uomo nel suo fare, nell'azione e quindi ho accumulato un po' di lavori che avevo che raccoglievano la mia sfera familiare con gente che comunque rappresenta per me nel mondo dello spettacolo, dello street food, gente che ha messo un tale amore e passione, una tale passione nelle cose che fa da lasciare un messaggio comunque positivo. E poi ho completato con la visione cattolica che fa parte chiaramente del mio essere Vincenzo Roberto Canto. Ho chiuso la mostra con lasciate che i bambini vengano a me, perché quello che credo è che bisogna sempre partire dall'uomo. E mi sono voluto cimentare nella ritrattistica perché fino a qualche anno fa non credevo neanche di saper ritrarre persone. E quindi, siccome era una cosa che non sapevo fare, ho cominciato a farla, perché ho questo meccanismo, se c'è qualcosa di difficile, va provata a farla e vediamo di riuscirci. E ci si è riuscito abbastanza bene. Bene, stiamo lavorando, stiamo lavorando. Lavori è pure un lavoro in corso e quindi poi lì, ognuno può leggere quello che vuole. Siete liberi di leggere quello che volete. Quello che mi preme è lasciare il messaggio dell'ultimo quadro, perché molto spesso guardiamo le immagini, guardiamo le persone, diamo le sentenze, giudichiamo, eccetera, eccetera. Io penso che se guardiamo la foto di qualsiasi artista, qui potevano essercene tanti altri, tanti lavoratori, nello svolgimento delle loro mansioni, e trovare del bello nelle loro mansioni, anche le più umili, a parte quelle più eclatanti e artistiche. E quindi nel mio credo il mio Dio sacrifica il figlio e quindi vuol dire che crede nell'uomo. E io credo nell'uomo. Quale uomo? Io propongo i bambini. Lasciate che i bambini vengano a me, è un passo del Vangelo che per me è chiave nell'essere uomo e figlio di Dio, perché è dai bambini che dobbiamo probabilmente imparare a non perdere i nostri sogni, a non lasciarci dominare da chissà quale brutte passioni, perché fra le braccia di Dio padre troverò sempre la pace. Quello è il messaggio. Poi gli altri ci possiamo soffermare appresso anche a considerare quello che vi suscita. L'importante è che vi susciti qualcosa. Poi comunque, se non vi piaccio, io continuerò a dipingere, come tanti amici pittori che vedo in platea, dipingiamo principalmente per noi stessi, per una nostra esigenza che non riusciamo a... non dobbiamo soffogare assolutamente. Grazie. Se non che, abbiamo detto che siamo qui non per la mostra ma per l'artista. L'artista non potrebbe esistere senza la madre che è presente, la moglie, i figli, ma proprio perché l'uomo artista nasce da un percorso, c'è la persona fondamentale che ha fatto diventare gatto quello che oggi è, ed è Giovanni Crisci. Lui la prima cosa che mi ha detto quando l'ho incontrato è che lui da giovane ha conosciuto un pittorio e portava questo pittorio che per lui nel suo fantastico era ancora bravissimo e lo capisco perfettamente cosa vuole raccontare e questo pittorio diventa il riferimento che lo ha spronato a Cercat sin da piccolo. Bene, detto questo il sin da piccolo ci riporta alla formazione dell'artista gatto. Giovanna ha sintetizzato tutto e forse era talmente sintetico da sorvolare. Quando un artista si mette al cavalletto e cerca l'ispirazione per rappresentare quello che vuole raccontare, ha diverse strade da percorrere. È come se volessimo fare il tema l'italiano, come se volessimo scrivere un libro, ognuno si sceglie l'argomento che più gli piace, può anche legarsi a delle correnti mescerali. Lui ha dei modelli precisi. Sceglie il vermerger che vedete sulla destra dove è il massimo che la pittura occidentale esprime, poiché siccome la pittura altro non è che è una questione immaginaria, un modo fantasioso per rappresentare il vero attraverso uno strumento che il vero non può contenerlo, ovvero tutto quello che noi percepiamo ha un volume o uno spazio, quando lo mettiamo in pittura dobbiamo tagliare la terza dimensione e pertanto necessariamente dobbiamo sacrificare una parte delle cose come siamo abituati a vederli, la faccia, il volto, l'oggetto giochiare il cubo. Nel momento in cui lo fa deve necessariamente rifarsi a quello che i maestri hanno fatto prima di lui, perché fa parte di una ricerca senza la quale nessuno potrebbe fare niente. Una volta conquistato lo strumento, ovvero come ti colloco, uno strumento che esiste realmente e te lo ripropongo per fartelo vedere come io gradisco che tu lo veda, come io voglio che tu lo veda, ha la necessità di prendersi dei passaggi, quindi all'inizio vede lo zio, poi va a cercare, come dice Giovanna, i maestri di grande talento. Quando arriva a questo tipo di pittura, che è una pittura che ormai ha superato tutti gli ismi, ed è una pittura che sembrerebbe una pittura di genere, ma qua ogni oggetto diventa come se fosse un santuario. La pittura che siamo abituati noi a conoscere è la pittura rinascimentale che recupera i valori della cristianità con dei committenti che sono necessariamente cristiani, cattolici, che ci incubano le madonne per far diventare un collegamento visivo diretto tra il nostro universo spirituale e un universo reale. Per fare questo si fanno le madonne, le costruiscono al triangolo, mettono i madri eterni, mettono l'oro, mettono l'argento, per creare sempre di più un collegamento tra il fantasioso, il fantastico e il divino. Però ad un certo punto diciamo, ma questa cosa a noi non ci interessa più perché abbiamo detto che il divino è l'uomo. Se l'uomo è il frutto della creazione divina, chi più dell'uomo che la creazione divina ha i contenuti divini? Pertanto se io ripropongo l'uomo nella sua completezza, riproduco il divino che tu mi facevi prima con le madonuzze. E si arriva a questa pittura di genere. Quindi come vedete tutta la cura che prima era messa nell'altare degli angioletti viene messa all'interno di una scena domestica ambientale, all'interno di una situazione che ha un valore enorme, poiché essendo che gli strumenti dell'epoca limitati non riuscivano a trasmettere quello che realmente accadeva, la pittura diventa l'unico mezzo capace di trasmetterci gli usi, i costumi, l'ambientazione, i fasti, la ricchezza. Se ci mettiamo due minuti a vedere l'opera, da dentro ci sono tutti i viaggi verso l'India con tappeto, tutte le cose d'oro, le cornici, il paesaggio, le letrate, cioè tutta una serie di elementi che è messi a tavolina come se fossero un trattato di storia. Quindi il quadro, il maestro, il pittore, aveva il compito di documentare il suo tempo e di trasmesserlo attraverso le immagini. E giustamente quando un ragazzino si lo mette a fare qualcosa, percepisce subito il valore di questa cosa, quindi anche se lui si professa cristiano, mitologo, capisce che quella era necessaria in quel tempo. Adesso ha bisogno di andare a scoprire proprio la natura dell'uomo, dell'individuo. Quella è la ricerca che gli uomini fanno. E arriva a questo quadro dove c'è inserito tutto, c'era Dalì che quando vedeva questo pittore impazziva, soprattutto Dalì, perché diceva che questo pittore aveva capito che nel quadro c'è sempre il corno del rinoceronte, non so se vi ricordate questo pittore pazzo Dalì che andava in giro con un corno del rinoceronte e si faceva vedere da tutti con questo coso, perché lui diceva che se nel quadro tu metti il corno del rinoceronte come struttura del quadro, quindi il triangolo, il reticolo, la piramide, se metti il corno del rinoceronte ha risolto il quadro perché riesce a concentrare l'attenzione visiva attraverso una forma che a noi ci è molto vicina. Non mi dilungo. La vicinanza delle forme fa parte di quella cosa che non so se avete incontrato da qualche parte che è il rapporto auro nelle cose. Cioè qualcuno dice che in natura esiste una sorta di estetica che non ha niente a fare col bello, ha a che fare col gradevole perché è compatibile alla percezione che l'uomo ha e questo è inciso all'interno di una serie numerica, Fibonacci per esempio se ve lo ricordate, ha un rapporto fra un lato e l'altro nelle quali le varie dimensioni o sottodimensioni sono tutte gradevoli. Un esempio, quella macchina fotografica è stata costruita grazie a questo, ovvero là c'è un rettangolo aureo che ha un lato che è una misura, l'altro lato che è un'altra misura, tutto quello che entra là dentro diventa gradevole agli occhi. Se qualcuno gli dice quando fa l'inquadratura, dividi per tre e occupa il primo quadrante a sinistra, qualunque cosa va a finire qua in una macchina fotografica diventa bello da vedere. Ma siccome la natura non si è fermata a questo, tornando al corno la rinoceronte che lui è andato a cercare dentro il quadro, ha detto anche tutte le volte che tu hai il pentagono, risulta il pentagono con le stesse leggi, quindi il ciclamino che voi vedete il giossomino, il fiore a cinque punte, o il pentagono, o la conchiglia, altro non sono che delle formule matematiche che ripropongono delle figure che sono compatibili. Perché tutta questa tercera su questo quadro? perché quando poi una persona rossa fa al di fuori, e poi ci ha fatto una sorta di committenza, gli hanno detto a lui me lo fai un quadro sulla cuciria? Lui non è che si ricordava che l'ha fatto questo quadro, io non te lo voglio dire. Io non è che voglio dire questo quadro di questo quadro, perché quando siamo andati a casa sua, lui e la moglie, che non voglio nominare perché non vuole essere nominato, ce l'avevano come cosa sacra messo in cassaforte, infatti mi ha detto scegliete di quelli che volete, questo non si tocca perché siamo gelosi, questo quadro non si tocca, perché è pilastro e riferimento della sua formazione. Bene, ma è talmente vera questa cosa che io facendo mi giravo da casa, mi sono reso conto, io, ci siamo desi conto, e questo quadro è uguale, cioè lui si crea all'interno di questo quadro, si crea la stessa dinamica di quello senza aver studiato questa dinamica, lo fa perché la sensibilità che è quel allenamento che fa diventare l'uomo normale, già artista di per sé, l'arte non potrebbe esistere se non ci fossero i connotati all'interno della razza umana per apprezzare gli elementi artistici, lo dico meglio, nessuno di voi ha bisogno di andare in un museo per percepire il vero, basta affacciarsi al tramonto in un paesaggio che ha un po' di mare e già il tramonto crea un'emozione che è data da una situazione visiva che è capace di suscitare a noi delle sensazioni che sono delle sensazioni piacevoli, la stessa cosa il fiore, la poesia, la lirica, quindi ogni cittadino dell'universo, basato, presente e futuro, dalle rocce dell'abdaura voglio dire fino ad arrivare a quello che non so cosa accadrà, quello è capace di percepire artisticamente la natura, è un potenziale artistico, ma chi si dice a quel pazzo là di Picasso? Cosa ha detto? Io a 80 anni mi sono affaticato per scoprire poi che quando ero bambino avevo capito già tutto perché i bambini sono i veri artisti che sono l'amore. allora cosa accade? Che poi ci sono altri che hanno delle sensibilità, ma voglio dire non è che è una cosa che li fa aumentare nella scala dei valori umani, perché c'è l'orologiaio che io ho un pazzo di sapere fare l'orologiaio per capire come si fa, hanno una manualità tale che mai potrei riuscire a rifare, poi sono delle persone che riescono a trasformare questa sensibilità che hanno innato nella capacità di riprodurla. E chissà una cosa che avviene in maniera magica, la chiamano talento, lei che l'ha visto da bambino, si chiama talento, è indicabile così come fa, sono naturale, che si mette a fare delle cose, le basma, ma voglio dire in cucina c'è la stessa cosa, che io per esempio vedo tutte le cose ammondicchiate e non capisco, così arriva, chiede e fatta, mi creava il piatto bene, allora detto questo siamo andati a cercare di capire cos'è l'artista, gatto di centro gatto, visto che adesso lui viene qua come artista e non come persona, perché se era come persona lo avremmo fidato ai parenti e ce lo presentavano loro, e abbiamo scoperto che noi abbiamo una visione che travalica la percezione che lui ha di sé, ed è necessario che sia così, cioè tutto quello che lui fa non sono altro che delle maschere che indossa per camuffarsi, perché lui si presenta come Roberto Vincenzo Gatto, che la carta del dettaglio è quello, poi dietro ogni quadro c'è lui in un momento diverso della sua vita e in un momento in cui ha bisogno di comunicare elementi diverse, Giovanna qua con il suo fulminante senso critico che dice, toccando tutte le sfere della sua sensibilità lui passa dagli affetti alle gelebrità, ai riti domestici e alla religione, perché lo fa? Perché proprio lui mettendo questa immagine, racconta di sé senza esporsi, e infatti la prima cosa è che quando lui voleva fare questa mostra proponendo i ritratti, gli ho chiesto il tuo ritratto dov'è? Cosa mi ha risposto? Non l'ho mai fatto, perché lui non voleva metterci la faccia, la sua faccia ancora, lui non è pronto per darla al pubblico, perché siccome è un perfezionista ha bisogno prima di arrivare a questo di capire esattamente cosa deve fare col pendicolo, bene, siamo entrati in questa sua casa segreta e in un posto segreto ce l'ha messo un quadro che aveva iniziato, gli aveva detto se lo fai è meglio, e che ancora non era pronto, quello era il quadro vero, Giovanna ha detto una cosa che non so se volando così rapidamente si è potuta percepire, faccio un passo indietro, quando è morta mia madre a 84 anni, è rimasto mio padre a 92 anni, 90 anni, e sapete cosa succede quando muore un po' ogni giorno dopo tanti anni di vita in comune? Che si fa subito l'altarino con l'umino e la candela, il posto da memoria no? E' una cosa che succede in questo senso, a casa mia questa cosa mi ha fatto un anno inizio a casa mia, e allora io ho detto c'era ancora la carta di identità della mamma posata sul comune, che ci fa? E' un'aria che ha voto più questa cosa che vuol dire che era mia madre, mia madre aveva tutte le belle foto, sapere quali stanno per i matrimoni, per gli eventi, era la foto perché siccome mia madre era invadida, quando mio padre andava a prendere la pensione di mia madre, anziché mettersi a braccetto la moglie, si prendeva la carta di identità, e la carta di identità quando la presentava era la moglie che percepiva la pensione, cioè trasferiva in un'immagine che sembrerebbe un'immagine a busta rispetto a tutto quello che raccontavano gli altri e di parte, diventava invece il ritratto più rappresentativo, qua se potessi portarvi al manicomio sarebbe facile, perché basterebbe darvi un vasolettino e chiedersi di pulirsi il muto, mi porterei indietro la sua immagine in assoluto la più feca, quella del DNA, non prendono più né immagini né in fronte digitali né fotografie quando vogliono individuare un'immagine, fanno l'immagine che è l'unica immagine vera di questi individui, di ognuno di noi, che è data da una cosa che non riusciamo a vedere, ma che esiste e percepita, quindi questa immagine di noi è un'immagine che può essere interpretata e che oscilla fra diverse possibilità, non è che abbiamo scoperto niente, se questa cosa che dico io, che la metto in questi termini, ve la raccontate in funzione delle varie popolazioni che hanno e che continuano a popolare il pianeta, vi rendete conto come? In coordinate diverse si sviluppano degli elementi estetici, visivi, culturali, che sono completamente diversi, che però hanno sempre la retice comune. Creare dei rapporti. creare dei rapporti. Ed è il primo intendimento che l'artista ha nel fare il quadro e nel volerlo esporre, perché ci sono degli artisti che fanno i quadri e non gli espondono. Giovanna conosce uno degli artisti più potenti che abbia mai incontrato, certo Giovanna è da questo, questo ha fatto tutta l'accademia di questo mondo, tutta la specializzazione di questo mondo, se non cercarli di prendere, esiste, ma c'è sembra senza Dio, ti sta venendo a fare un quadro che è meglio di quello, il caravaggio ci può somigliare, e lo ricopre e ne ho amato. Non è pronto a fargli vedere, ci sarà un meccanismo di protezione, lui non vuole mettere in mostro i suoi quadri, lì dico, ci rilogano, non ho fatto turchieria, perché siccome le tene se ne vado lui, io ho visto che prendono l'entuolo, lo tratto e se lo impugano tutto, però alla fine ho cercato quello Giovanna. Bene, allora cosa accade? che in quel ritratto, tornando alla calla fototessera, c'è esattamente l'opposto di quello che viene stilizzato all'interno del documento ufficiale, dove un'immagine, anche se è passata, quanti di voi hanno una carta di identità in las che non si riconoscono? Ma chi stui io e cinque anni fa? E intanto è quella valida, se ti fermano tu sei quello, lei perché non somigli alla foto, è mai viceversa, no? Si toglia la donca e la barba perché la foto non è più bella. E invece in quella foto c'è quello che Giovanna ha detto prima, ovvero che l'individuo siccome vive le dinamiche della propria vita all'interno di un contesto dove sono tutte cose in movimento, come è che diceva che la costanza sta nel cambiamento perché tutto cambia sempre, non sembrerebbe, ma anche io le parole che dico servono a cambiare quello che vi dirò dopo, quando lui quel ritratto lo completa non è già più lui. Qual è l'unica cosa che lo fa sembrare esattamente quello che è? Ovvero l'artista che cerca di presentare se stesso, l'azione del dipingere. E qual è l'azione del dipingere? E qual è l'azione del dipingere se non quella dell'interruzione? Ancora prima che lo finisco ve lo mostro. non voleva esporlo prima. Poi si sono guardati in faccia con la... e si sono resi conto che forse quel ritratto realmente rappresenta più dell'intera mostra se vogliamo portare qua dentro Roberto Vincenzo Catto e non i suoi quadri. Perché se lui vuole affidare il quadro e lo dai in una collettiva e manco non ce va, ma chi gliene frega di chi si è, non gli ne importa niente nessuno, si mettono là e pesano il quadro. Quello che accadono non vende nella vita anche. Gli storici dell'arte è quello stesso. Incontrano un quadro, si mettono là e dicono questo quadro, il materiale risale al 1724, la pittura è fatta dopo il 1723, la pennellata è questo. E riescono, perché sono storici e quindi studiano come se avessero tutto, come se fosse una formula matematica, riescono sezionando il quadro ad attribuire l'autore all'artista, la tecnica, lo stile, tutto. Lo storico dell'arte fa quello. Il critico no. Il critico è il mediatore tra l'artista e chi lo legge. Quindi, se l'artista vuole essere visto, difficilmente lo può fare raccontandovi le cose di prima. Che c'è di gatto nei quadri di quello che vi ha raccontato lui prima? Chi li vuole vedere li vede, chi non li vuole vedere non li vede. Ma non è che è vero proprio questa cosa. La diceva perché l'invasione del discorso l'ho portato a quello. E' qua l'artista. Cioè, la sua personalità è dentro questi quadri. Quando io poi ho rivisto la tiglia, mi sono detto, non si è limitato, quando sei giovane, e' che, 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 e' che questo sito è ancora più vera. Cosa voglio dire? Mi ricordate che bisogna dire, il quadro non è mai vero. Questo quadro deve essere vero. Non si può fermare a un'immagine solo di riproduzione. Quindi, tutto quello che non riesce a fare, se guardate cosa vi dicevo, questo spazio non lo potranno mai fare. Adesso ci stai ragazzi e dicono, guardate, in questo giro. Manco se schiattano a fare, se fosse una fortuna. Perché questo deve farlo, bisogna mettere, e ci mettere delle cose che stai vogliono andare a picchiare, e che è ancora più gradevole alla fine. La stessa cosa per il figlio. Non lo chiamo. Ma dov'è la cosa dov'è? Quello che dice Giovanna diventa non solo leggibile, ma diventa davvero la rappresentazione del Palermo. Vi ricordate, la fotografia la possono fare tutti voi hanno visto in fotografia in televisione di persona il santo di Palermo. Ma quanti voi hanno visto questa luce all'interno dell'immagine? Nessuna fotografia può riprodurre una cosa spirituale che l'avvento c'è. Vi ricordate che diceva Giovanna? Ma questo non è l'obiettivo freddo che è riproduce le semplici. Provate a vedere come viene fuori il il contrasto dei bianchi e degli azzurri anche dell'azzurro, perché ci sono le nervature della mano. Le nervature della mano erano dei volumi fittizi che servono a portare ancora di più verso l'azzurro che stende a prendere tutto come fosse un vero l'immagine di una persona che il cui lavoro è il sacrificio per te. Mi è stato dato tanto come te. Sì, sì, tutti quelli che vogliono dire qualcosa c'è, il tempo c'è. Sì, teniamo diciamo pochi minuti perché poi ci farà piacere... Posso anche capare dopo, noi alla seconda e un quarto andiamo a fare qualcosa. L'avventivo, sì. Non più l'avventivo. Prima che passo la parola a un amico volevo ringraziare perché non l'ho fatto prima, perché ho ringraziato gli intervenuti che siete tantissimi e la cosa più bella che sto vedendo è che c'è la famiglia, gli artisti, i parrocchiani, gli amici di 40 anni prima. Sì, sì, io sono... c'è la mia parrocchia, a parte i ragazzi eccetera eccetera. C'è il gruppo... ci sono i Calapanama, ok? C'è la mia parrocchia a cui tenevo tantissimo, Giovanni Frisci che ho avuto assolutamente... E lui è venuto da Campo Felice di Nocella, apposta, quindi sono onorato di questo. Però voglio ringraziare, prima che passo la parola perché non vorrei ho fatto... Allora, il gruppo Siciliano è un gruppo in cui, credo, Alessandra Buttitta davvero, non ci conoscevamo ma abbiamo subito, ci siamo capiti, quattro chiacchiere perché è così. E quindi, come dire, voglio dire, seguiamo Siciliano perché è qualcosa che dà veramente vigore alle nostre tradizioni, alla nostra arte e ci vogliono questi motori per far vedere cosa significa essere, prima di tutto, siciliano, che è un valore aggiunto che qui tutti abbiamo. Poi voglio ringraziare Giovanna perché sopporta il rosario, perché sono marito e moglie... No, perché hanno... c'è veramente... con la loro conoscenza mi stanno aiutando anche a capire un po' più di me, l'ha detto il professore, quindi sicuramente farò patrimonio di tutto quanto avete ascoltato perché anch'io per la prima volta sto ascoltando. E poi non so cosa c'è da dire questo signore qui accanto, però siccome è una persona di cui, come dire, stimo tantissimo, a parte lo voglio bene, e quindi è Angelo Torre, un vecchio amico, quindi qualsiasi cosa di là di buono su di me non è attendibile perché non è imparziale. Sì, mi sono permesso di fare, come dire, una riflessione perché parlando anche da persone che la prima volta assiste a questa mostra di un amico, abbiamo ascoltato il professore che ci ha spiegato tecnicamente, no? Io parlo di come si compone, come dire, lo schema di un quadro, io parlo della impressione che ho avuto guardando tutti i quadri, no? Perché guardando tutti i quadri tu ti rendi conto di cosa esprime il pittore. Il professor già ha accennato qualcosa. Allora, parlando in termini tecnici, ogni quadro esprime un simbolo. Il simbolo come si compone? Il significante ed è significato. Che cos'è il significante? Il quadro che io vedo con i miei occhi e percepiscono i suoi colori, nella sua bellezza. Il significato che cos'è? È il messaggio che il quadro mi sta dando. Io ho letto tutti questi quadri una realtà continua. Abbiamo la bellezza profana. Cioè, abbiamo alcuni dipinti di attori, no? Di cantanti. Per esempio, tutti belli questi quadri. non c'è, non ci può essere la figlia di fantozzi. Perché se tu esalti la bellezza, ci può essere soltanto la bellucci, eccetera eccetera. Poi c'è la bellezza spirituale, che è quella realtà che nel quadro che il professore ha detto, tu vedi. Io posso dire che non sono un professore. Posso dire che non sono un professore. Così mi hanno detto. Poi c'è la bellezza del Vangelo, giusto? Il messaggio spirituale. Poi c'è un'altra bellezza importante che ci riporta alla nostra terra. Cioè, tutti questi mestieri che noi andiamo brillando in queste opere, non sono altro che l'aspetto della bellezza della vita e del quotidiano, che è tipicamente siciliana e si astrina attraverso i colori, molto belli, accesi, i colori e i fatti del quotidiano della nostra terra. Cioè, esprime una tradizione che oggi vogliono cancellare all'insegna di un buon parismo che non fa altro che rendere inutile la diversità fra un soggetto che viva in Sicilia e uno che sta a un lupo. Questa è la realtà che lui sottopone invece, alla nostra attenzione, e questa è la realtà della bellezza. Dobbiamo dire che è il lupo fondamentale di questo vittore. Lui ama la bellezza ed è in suo profondo riferimento tutto quello che fa. E di questo noi lo ringraziamo. Auguri e buon lavoro. Io ho omesso di dire una cosa, però la dico sotto voce questa, piano 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 piano. I quadri hanno un cartellino. Ogni cartellino ha il titolo. Non si deve dire questa cosa. E il titolo ha il numero di telefono. Non l'ho detto, è fatto il suo diritto piano piano. Allora, ogni quadro ha un cartellino. Il cartellino ha il titolo e il titolo ha il numero di telefono. Se qualcuno per esempio pensa che questo quadro nella sua parete della cucina dovesse interessarmi, non può rubarlo, non si può prendere il quadro. Però si può telefonare al numero che ci ha messo la vicina e se ne può parlare. Dario un'offerta. Chi sa chi ama Bellucci, chi sa chi ama Tocchiagore. Questo è un altro titolo che ti va a parlare. Dario un'offerta. E guarda, sei la... Allora, per chi non lo conoscesse... E' il Panamaro. E' il Panamaro. Antonino Gambino è il fondatore del gruppo Calapana. E' lo Spirito. Lo Spirito, sì. Che ho abbracciato... E' uno dei gruppi più belli che esistono a Parola. Perché è la Parola. Tutte le persone che sabato mattina volessero pimentarsi con la pittura, basta andare dove vi dirà lui adesso, perché lo dirà, e si possono mettere là a pittare senza nessuna contributo, nessuna richiesta. Si mette là, basta le so quattro ore sotto il sole se non è stato. E' vero, dici dove. Ma io non volevo dire questo. Andiamo ormai, ormai, alla Cala. Anche se da quest'anno saremo anche al Potticciolo di Sant'Erasmo. Quindi faremo o Cala o Sant'Erasmo. Quando si dice la Cala... I giorni di spade alla Cala e i giorni di spade. No, volevo solamente dire, e ne approfitto di truppare la scena da Vincenzo. Dopo quello che ha detto Rosario, non dico nulla della mostra io. che ha detto grande e ha detto tutto. Siccome il giorno 7, molti di voi artisti che sono stati messi nell'elenco degli invitati a partecipare alla mostra Calabana ed Amici, ricordo che le opere da presentare sono due. Avente come tema, possibilmente, il mare. Quindi, nel... Oppure la popa... No, senza misura... Ah, lo puoi portare. Ah, lo puoi portare. No, non lo puoi. Non ci sono problemi. Non è... E' una... Mostra... Di voi... E' un po' fisico. Quindi, non abbiamo nemmeno fatto le selezioni. Abbiamo solamente invitato tutti i Calabana e gli amici che il sabato vengono a trovare. senza fare distinzione, se sanno pittare o non sanno pittare. Solamente è un'occasione per stare tutti assieme. Quindi, eh... Tutti i colori che sono stati messi nella cantina fatta dal nostro amico grafico e artista, eh... Nino San Scarlo. Sono collegati... Adesso sto facendo... Posso io invitare, a nome vostro, il maestro, a partecipare a questa mostra con una sua volta? Sì. Lei... Lei ci farebbe questo piacere. Vorremmo santificare questo momento in questo modo. Se lei ha... Prego... No... No... di adesso ragazzi. Per me va bene. Davanti... Davanti... Quindi il maestro Chi si sezionò, a riportare un mondo lavoro. Si? Si? Quindi si metterà a conto poi con... Con Alberto, per far arrivare le opere con questo lavoro. Quanto è una ballata? Grazie. È vero quando... Quando a distanza di tempo poi le cose non solo ritornano, ma si... si incrociano, è interessante perché lui mai la ragazzina pensava che avrebbe potuto non esporre con sta divinità la bellezza della vita è che nessuno sa quello che ti succederà domani non l'avrei assolutamente pensato il professore Grisci viene invitato al giornale a un tempo di poterlo inserire a fare noi tutti più piccoli noi più grandi casomai puoi levare il mio vuoi levare il mio allora a questo punto siccome i quadri meritano più delle parole se vi alzate in maniera disciplinata visto che siete assai ci godiamo una voce e ci avviciniamo verso i ragazzi che sono in attesa va bene? ancora ringraziando Vincenzo Roberto per questa sua grazie